Musica Etg più sindaco bentornati, benvenuto ad Alessandro Rapinese, primo cittadino di Como, anche questa sera a mezz'ora per rispondere alle domande sui temi più caldi. Sì, apro tra pochi istanti il telefono, parto però ci sono comunque arrivate tante domande in questi giorni dal lago, invaso da detriti, legname dopo le piogge dei giorni scorsi, la città turistica invasa dai turisti ha fatto i conti con un lago inguardabile, soprattutto nella zona della diga foranea, c'è stato anche uno scontro su chi tocca utilizzare, pulire, utilizzare il battello spazzino, qual è la situazione? Allora, la situazione è che è naturale che i fiumi riportino dei legnami nel lago, normale, succede da tanto tempo, da più di vent'anni si assiste a contenziosi litigate tra comune e provincia, tra le tante cose le quali sono chiamato a mettere ordine c'è anche questa situazione, tra le centinaia che abbiamo affrontato e molte delle quali risolte. È semplice, non è oggetto di discussione, compete alla provincia per una legge regionale, punto. Ovunque, 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 sì, in tutto il lago e dovrebbe pulire la provincia in tutto il lago. Nella parte di bacino oggetto dell'accordo con il consorzio, la provincia ha una convenzione in essere. La provincia ha una convenzione in essere anche col comune di Como, io sostengo che non ci abbiano dato più di 600 mila euro in questi anni, perché i sindaci precedenti a Como non li hanno richiesti, se vuoi firmare la convenzione con me perché hai bisogno di me, perché vuoi che lo faccia io questo lavoro, semplicemente mi paghi. Ma non è che paghi Rapinese perché si compra un Rolex, semplicemente paghi tu la spesa perché se no, quella spesa, la pagano, come è successo in questi anni, ingiustamente i cittadini comaschi, quando invece è una piena, precisa, inconfutabile responsabilità della provincia. Fine. Ma tant'è che l'altro giorno, dopo le chiacchiere di Bongiasca, che si è messo a dire, Rapinese di qui, Rapinese di là, la provincia ha mosso il suo battellino e ha pulito, ma perché è un suo onere. E' intervenuto l'autorità di bacino alla fine. Che poi si è intervenuto chiunque, non è intervenuto il comune di Como. Se la provincia ha trovato un accordo con l'autorità di bacino, bene. Quale che sia il metro, bene. Non compete al comune di Como, ma basta sapere... Nei prossimi giorni... Basta leggere la legge regionale. Nei prossimi giorni è prevista di nuovo pioggia, si ripeterà per l'ennesima volta questa situazione, cosa succederà e chi interverrà? Chi deve intervenire? La provincia. Ma tant'è che è la provincia, ci hai addirittura inibito dall'utilizzo. Cosa vado io? Mi metto su una canoa, uno zainetto, mi metto dentro la legna. Su questa immagine apro le telefonate. Mi inibisci dall'utilizzo. Mi chiedi una convenzione. Ma quando c'è una convenzione, un ente può dire sì o può dire no. No, il comune di Como dirà sì se la provincia metterà nero su bianco che ci dà i soldi che ci doveva, punto. Se no, ma come faccio con chiunque? Non paghi la Tari, ti vengo a prendere la Tari, sei un ente che mi deve dei soldi, vengo a prendere... Ma tant'è che noi alla provincia abbiamo scritto, ma a parte le chiacchiere, a Rapinese uno scritto non è ancora arrivato. Cioè, più di così cosa devo fare, mi sembra evidente. Certo, perché poi non è neanche corretto, non abbiamo la replica della provincia in questo momento. No, ma guardi, sto replicando, io hanno parlato loro fino adesso, io fino adesso non ho detto niente. Abbiamo una personelina, pronto? Buonasera. Sì, buonasera. Dica. Buonasera, signor Sindaco. Buonasera a lei. Signor Sindaco? Prego, la sentiamo. Senta, signor Sindaco, io vorrei sapere, vorrei avere una risposta secca, sì o no. Ma i pannelli, mi rimonta? Non l'ho sentito. I pannelli fanno assorbenti? Non l'ho sentito. Dove? I pannelli fanno assorbenti dove? In via San Bernardino da Siena, vorrei sapere... Se andiamo avanti così... Una risposta secca, mi rimonta o non mi rimonta? Risposta secca, sì, grazie. Risposta secca, signor Sindaco. È un onere del Comune mettere i pannelli fonoassorbenti in via San Bernardino da Siena. Il nostro dirigente lo sa. Se va avanti così la situazione, prenderò io i pannelli fonoassorbenti e dopo essere stato nel lago con la canoa a prendere il legno, andrò a montarli. Quindi saranno montati. Devo dirle che sulla base di questa organizzazione ci sono state... L'ultima giunta è durata 10 ore, 11 ore, penso che sia il record storico, perché abbiamo affrontato uno dei temi di quella che è la macrostruttura e l'organizzazione del Comune di Como che a breve conoscerete e cambierà da settimana prossima. Ora non posso fare i nomi di quali i dirigenti sono stati spostati dove perché non ho ancora firmato il decreto, dovrei farlo nelle prossime ore, però proprio per evitare delle situazioni di non collegamento tra i vari settori, dopo sette mesi di pensieri e stress, perché rimettere mano a un'organizzazione del Comune come abbiamo fatto noi è veramente stravolgente, lo vedrete, siamo finalmente giunti alla nuova definizione in maniera tale che i settori parlino di più Quindi si arriveranno anche i pannelli. Arrivo subito dalla... Ah no, ti lo scusa, l'ho presa larga. Spero che questa nuova organizzazione aiuti anche in quello. Arrivo subito anche dalla telefonata. Sindaco, scrivo per mio nonno novantenne è possibile installare un corrimano o comunque una ringhiera all'ingresso del cimitero vecchio di Camnago Volta? Ci sono diversi giardini e gradini e nulla a cui reggersi. Allora, la risposta non può che essere che sì, perché se mi chiede è possibile installarlo? Sì. Devo dire che ogni volta che vado via da questo studio dove mi corcate di richieste puntualmente adempiamo o cerchiamo di adempiere dove è possibile come faccio con i report settimanali mandandovi messaggini. Certo, quindi speriamo che arrivi anche il corrimano. Adesso messaggio per Ciabattoni che senz'altro ci sta guardando. Corrimano, cimitero, Camnago Volta. Allora, per la serie messaggio chi deve intendere. Buonasera, Sindaco, via Pastrengo vedi foto, un disastro, però non è pulizia. Insomma, impronte, gradini sconnessi, non è una cosa che possiamo chiedere in diretta. No, quello è un lavoro sempre di Ciabattoni, peraltro. Perfetto, allora sempre Ciabattoni sta ascoltando. Lo sappiamo, ne abbiamo già discusso. Adesso, grazie all'avanzo, inizieremo. Ciabattoni, via Pastrengo. Ok, due segnalazioni di Ciabattoni sono arrivate e vediamo chi abbiamo in linea. Pronto o buonasera? È in linea, buonasera. È in diretta, prego. Niente, riattacchiamo. Sindaco, come sta procedendo la gara d'appalto per le mense scolastiche? La gara d'appalto per il punto unico di cottura? Abbiamo fatto, sì, perché è una cosa diversa. Abbiamo un appalto in essere, di conseguenza abbiamo questo enorme, mega, giga progetto per quanto riguarda il punto unico di cottura. Ci siamo mossi in una maniera, secondo me, perfetta, nel senso che abbiamo fatto prima le prove di caratterizzazione del suolo su Invia Somigliana per evitare le sorprese che in molti casi hanno bloccato. E adesso stiamo aspettando le offerte del mercato che non so, non mi ricordo quando scade, abbiamo aperto la manifestazione di pubblico interesse e aspettiamo delle offerte che il mercato, affinché l'operatore voglia costruire il punto unico di cottura e far sì che possa essere erogato il servizio con il vantaggio di essere erogato direttamente da Como e non dalla provincia di Milano, da dove stanno arrivando, utilizzando i servizi di dipendenti di Como, nel senso che naturalmente saranno nuovi posti di lavoro sul territorio, valorizzare dal punto di vista patrimoniale un'area importante che è quella di Via Somigliana, con un immobile che se dovesse andare verrà costruito dall'operatore e rimarrà nella parte del patrimonio, con tutto, secondo me, perfetto. Valorizzazione del patrimonio, migliore qualità di cibo perché arriva a chilometro zero, arriva direttamente Como su Como e abbiamo risolto un problema, anche qui abbiamo risolto niente. Abbiamo avviato l'iter, però chiaro, bello, preciso, senza dire pubblico, privato, eccetera, eccetera, per arrivare a soluzione di un problema che questa città ha da vent'anni, ne parlava Lucini, ne parlavano anche prima, e io appunto unico di cottura non lo vedo. Questo iter è partito in una maniera chiara, senza questioni politiche, faide, abbiamo una maggioranza solida che è arrivata in consiglio e ha votato una decisione, quindi l'iter è avviato ed è una delle tante cose che abbiamo fatto. Pronto, buonasera. È in diretta, prego. È caduta la linea. Allora, d'accordo con lei, sindaco per il lago, non si può arrivare a discutere di queste cose quando c'è il lago sporco, vanno risolte molto prima. E vanno risolte molto prima, però attenzione. I detriti non arrivano solo dalle valli, ci sono alcune ville sul lago che buttano i residui dei loro parchi di notte nel lago. Ma la verità, tocchiamolo questo tema, visto che sono sensibili. Guardate che Como, tutti i legnetti che ci sono, i tronchi, non sono mica di Como, o non sono tutti di Como. La verità è che abbiamo la sfortuna di essere, con il vento viene trasportato, ma mi scusi, ci ricordiamo Magatti cosa diceva? Ci ricordiamo cosa dicevano i precedenti assessori, quelli dopo e Annoni? È sempre stato così. Solo che nessuno ha mai risolto la faccenda. Tante chiacchiere non hanno risolto. Ora noi abbiamo una posizione chiara. Volete la convenzione? Sì, va bene. Parliamo di soldi. Parliamo di soldi. I cittadini chiederanno chi interverrà comunque nei prossimi giorni. Abbiamo in linea, pronto? Buonasera. Buonasera. Eccoci, in diretta, prego. Sì, scordi, sono Francesco da Tavernola, ho telefonato per il signor Sindaco per quanto riguarda la pedana. Sì, ne ho parlato proprio... ...la tavernola, quello che va verso il lago, che poi con il ciabattoni siamo rimasti d'accordo come ammetterla. volevo dire questo, soltanto questo. Se dopo queste piogge la situazione del lago è sempre così pessima, così come abbiamo visto, e facciamo anche una gran bella figura nei confronti dei turisti, propongo a voi espansione, non parlo con il sindaco, parlo a voi espansione, un bel faccia a faccia tra sindaco e presidente della provincia. Quando vuole. È interessante, grazie della proposta. Guardi, ma è molto semplice, la trasformo in una questione di soldi. Io non devo pagare. Se paga il signore, se paga espansione, se paga qualcun altro, fatelo. Io dico che la Tari, che la Tari non la faccio gravare di un costo che non è dei cittadini comaschi. È chiaro, l'ha spiegato bene. Sindaco, quando sarà rifatta la segnaletica dei posti auto in viale innocenzo, soprattutto i posti auto invalidi? Segnaletica, segnaletica. Stiamo ultimando tutta l'opera. Adesso l'impresa su Piazza Roma ci dice che può fare la gettata per ultimare i lavori il 10 di maggio. Tenga presente che io me l'aspettavo questo lavoro concluso mesi fa. L'abbiamo finanziato mesi fa. Il progetto è stato approvato dalla Giunta, quindi la parte politica è finita a ottobre. Sì, a ottobre. Di conseguenza, purtroppo sono capitati dei ritardi dall'impresa che ci ha garantito che il 10 di maggio dovrebbe ricominciare per finire con la gettata, eccetera, eccetera, da lì ci si muove. Ordinanza, passaggio macchine, piazza perretta e poi si va ad ultimare la situazione sui Pumman dall'altra parte. Tra l'altro, a proposito di parcheggi, ci chiedono, mi scuso perché non l'abbiamo mai letta, ma ci chiedono dei posti moto nella zona della ex Secav. Per capirci, allora, il Sindaco, le ho già fatte vedere la domanda, non abbiamo una risposta precisa perché non ha capito esattamente la notarità, ma andiamo a... No, 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 ma ho capito. E dopo il benzinaio, sulla destra, prima del ristorante che c'è lì, dove c'è l'albergo abbandonato, quell'area lì. Ecco, andremo... Sì, 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 va bene, ma nello specifico, lì tutta l'area, ad esempio una delle opere che mi piacerebbe portare in variazione è abbiamo fatto bene quel pezzo in Viale Innocenzo, fatto benissimo lì davanti al Metropol, per intenderci. Ma io non sono mica soddisfatto. Cioè, quello è molto bello, ma se io sono un disabile che scende dal pullman ho anche quel pezzettino che mi passa tra l'albero che c'è in adiacenza al benzinaio e l'albero seguente. Ho proprio chiesto oggi di fare un progettino da poter portare in giunta da finanziare perché adesso che abbiamo fatto bene tutto quello, ricordo che tutti i posti auto prima lì non erano a norma, non rispettavano le norme e non c'era proprio un passaggio per un disabile, ma anche per uno abile, se vi ricordate. Quindi l'idea lì è dove dice la signora è proprio quella di andare a riqualificare con una passeggiata fatta sempre bene, come quella di via Manzoni, come quella di via Innocenzo, che giri e consente al disabile, ovviamente con una carrozzina elettrica piuttosto che manuale, visto che è in piano, di poter girare ed entrare in via Gallio e poi scendere dalla via Gallio e arrivare in centro con la carrozzina. Allora, Sindaco, l'immagine della canoa con lo zainetto sulle spalle piace, quindi non so, vogliamo vederla in acqua. Esatto. Pronto o buonasera, chi abbiamo in linea? Salve, salve cara. Chiamavo perché volevo parlare col sindaco. La sta ascoltando? È già in diretta, prego. Praticamente cosa succede? Io sono Chiara da Como. Cosa succede? Che oggi sono rimasta due ore per fare da Monte Chiasso arrivare a Como. Due ore e fatti. Siccome non posso prenderla a canoa, ovviamente, ma qualche roggia la può trovare. Io direi, prima di parlare di canoa, vediamo di capire, perché vedo che continuano, mi scusi se mi prolungo, a fare delle aiuole giganti e a stringere le strade. Non c'entra niente, signora. Non c'entra niente. E delle grandi aiuole. Però signora, la ringrazio perché sono arrivate tantissime segnalazioni sul caos di oggi. Ne abbiamo parlato anche nel telegiornale, ma è stato davvero un pomeriggio di delirio. Non stiamo esagerando, non è un'esagerazione o una frase fatta giornalistica. È stata realmente una situazione di caos totale. Grazie quindi della segnalazione. Allora, a un certo punto, bisogna ricordarsi che c'è un'autostrada lì e che quando succede, e oggi il delirio è imputabile, a un incidente in autostrada, cosa fa uno? Esce dall'autostrada, rientra all'altra parte per saltare l'incidente perché c'è il tom-tom. Ditemi cosa devo fare. Perché qui si parla, si parla, ma di soluzioni. Diciamo che l'incidente è stata una cosa minima. No, ma è stato proprio... Però il cantiere in autostrada sta creando code ininterrottamente. Quando c'è un problema di questa natura, l'incidente... L'incidente è stato abbastanza limitato nel complesso e poi le code erano ovunque, sono andate avanti fino a questa sera con un incidente delle due del pomeriggio. quindi diciamo che ovviamente non era solo quello. No, ma il problema è l'impatto di quello che esce e poi diventa un troppo pieno e si mischia anche con il fatto che è una città che seduce. Cosa posso fare più che aver avuto gli agenti che sono andati? Hanno disattivato i semafori, si sono messe a fare mobilità, viabilità con la paletta per cercare di agevolare nei punti. Nel nodo Cerniera qui davanti abbiamo avuto... Cioè, più di così cosa potevamo fare? Mi invento una strada? Cioè, ma adesso anche un po' di comprensione di quella che è la situazione. Adesso, se qualcuno ha idee intelligenti invece che parlare del mio zainetto, le dica, ma non c'è... Sto ascoltando chiunque, il 18 di maggio questa santa autostrada interrompe i lavori, a settembre li riprenderemo. Ma cosa posso fare? Era Rapinese che è andato su che era causato l'incidente? No? Beh, oggi c'erano anche... Il cantiere sul lungolago ha un po' meno impatto ormai e quindi di fatto non sta più incidendo. Ma mi scusi... Non ha più l'impatto delle settimane precedenti. No, ma anche questa qui è una leggenda metropolitana perché l'impatto delle settimane precedenti è che adesso noi abbiamo tre sensi di marcia in una direzione invece che due. Ma i due ci sono sempre stati. Adesso, per cortesia, cerchiamo di qualificare bene. Sul lungolago, adesso in questo momento abbiamo tre corsie tranne alcuni punti dove ci sono due e mezzo perché abbiamo fatto due all'inizio e poi diventano tre. Cioè, abbiamo fatto tutto quello che era possibile fare in termini di logistica. Abbiamo interrotto l'afflusso dei pullman lungo l'ario Trento e li abbiamo fatti girare per il centro storico e abbiamo creato due corsie. La verità è che quando sei a ridosso di un'autostrada che costituisce poi questi benedetti perché io in certe città senza navigatore non mi potrei muovere ma esattamente come quello di Strasburgo che sta scendendo perché deve andare. Il navigatore si interisce un'alternativa se c'è la coda. Sprobateci, quando c'è la coda in autostrada lui ti dice esci, li fa uscire in via Siagoli fa rientrare a Camerlata e ci creano delle code pazzesche. Allora, io non ho abbastanza soldi per comprarmi Waze, Google e TomTom e dirgli non cambiare e non suggerire questo percorso. Però la realtà è questa. La realtà è questa. Non c'è niente da fare. Stanno scatenando i messaggi di ogni genere dal lungo lago dove non deve essere trafficato le auto devono circolare fuori. sta circolando qualsiasi messaggio. Io mi ricordo la Gerosa non riesco più a leggere i tablet. Non farò commenti di natura politica di Gerosa, Lucini eccetera. No, semplicemente un dato oggettivo. Quando un assessore alla mobilità disse chiudiamo il lungo lago per disegnare coi gessetti la coda era arrivata non a Bellagio dietro Abbiamo anche una chiamata vocale svizzera credo di capire dal numero non rispondiamo alle chiamate vocali scriva un messaggio o telefoni Sindaco abbiamo una persona in linea sto perdendo il controllo pronto buonasera pronto buonasera Sì buonasera scusi mi ricollego all'argomento che stavo discutendo poco fa il nuovo parcheggio degli autobus in tangenziale ecco sì sono d'accordo ho fatto bene togliamo il polmone da Piazza Roma ma la domanda è quando verrà finito è formato una voragine lato via Barelli e non è terminato in ultimi parcheggiano ovunque adesso su tutto il lato si fa fatica a passare e poi mi ricollego anche via Barelli ma è giusto che sia così è strettissima entrare nel cancello della scuola pericoloso ecco la mia domanda è questa grazie quando lei parla di via Barelli grazie della domanda assolutamente allora lì è evidente che bisogna procedere con l'asfaltatura adesso compatibilmente con tutti gli altri lavori che stiamo facendo Napoleone eccetera eccetera il signor ha toccato un tema importante sulla via Barelli perché effettivamente per chi fa la via che il signore conosce quando si arriva nella parte terminale in prossimità del marciapiede che è a servizio degli utenti dell'albergo quando escono lì è stretto io mi sono permesso di suggerire ma non è il mio compito non sono un ingegnere della viabilità secondo me una soluzione da uomo della strada che ci passa in macchina oltre che sindaco è quella di togliere gli ultimi 5 posti auto perché adesso è veramente troppo stretta ma dove è nato il problema perché il signore si è accorto oggi del problema perché nella pianificazione precedente avevano studiato di mettere dei paletti per fare cosa per proteggere la mobilità dei pedoni di conseguenza da quando ci sono i paletti non si può più un po' salire qualche centimetro sul marciapiede e passare questo è il problema comunque è evidente che dopo aver riqualificato la parte che dà su via L'Innocenzo la parte che affaccia su via Barelli la asfalteremo starete vedendo che stiamo facendo parecchie opere in questo momento è una questione di tempo esattamente come le rotonde dove abbiamo fatto la bella rotonda eccetera eccetera dove si vede che non è ancora fatta la viabilità interna della rotonda le asfalteremo è solo una questione di trovare il momento opportuno e poi quando finiremo i lavori è la risposta la quale avevo prima appena l'azienda che è in carico Piazza Roma mi fa la gettata sposto Piazza Perretta e ci concentriamo sull'altra comunque sappiate che non lo dico perché la penese è un disastro non so fare il sindaco eccetera eccetera ma non è colpa della politica se l'impresa subisce un ritardo nel senso non gli ho detto di arrivare in ritardo però è evidente che la responsabilità ricade sempre sul sindaco perché la garanzia dell'amministrazione vi sto dicendo cosa è successo vi sto dicendo la data che ci è stata comunicata dall'azienda che sarà il 10 di maggio anche lì con lo zainetto devo tirar fuori ci sono messaggi di solidarietà anche per Ciabattoni con tutto quello che gli sta assegnando per l'assessore Ciabattoni Ciabattoni portateli dello Zabaione lo sta dicendo è caduta la linea c'è anche però da dire che la polizia locale di Como non è poi tanto presente nel dare informazioni agli automobilisti che vengono fatti uscire in via Ziago qui c'è gente che alle 3 del mattino vaga per Taverno la Ocernobbio senza sapere dov'è allora c'è un altro problema quello proprio non sa dov'è perché il problema nasce con quelli del navigatore se ce n'è uno che è in giro per Taverno non sa dov'è allora ci sono altri problemi che dobbiamo indagare il problema autostradale è scandaloso sono anni che paralizzano tutto in Svizzera hanno costruito il Ceneri quasi con lo stesso tempo degli assestamenti alle gallerie chiaro che il comune non c'entra ma è comunque uno schifo però c'è da dire che in verità anche i tempi dei cantieri svizzeri hanno quelli della 9 in autostrada diciamo che di sicuro non brillano non è una mia responsabilità però ribadisco e con serenità quei lavori fanno sì che non ci siano nuovi ponti morandi in giro per l'Italia ma questo lo abbiamo detto siamo d'accordo esatto era giusto per capire che non stiamo giocando non stanno giocando potremmo parlare di tutte le responsabilità di altri enti e io dire sì brutti cattivi brutti cattivi un cavolo stiamo mettendo in sicurezza un tratto di strada perché in questo paese si vivono le tragedie perché i ponti crollano di conseguenza pronto o buonasera? Pronto? Prego Sono Giovanni D'Acono buongiorno buonasera buonasera c'è ancora la luce buonasera signor sindaco buonasera dunque io ho chiamato due settimane fa per una questione di un marciapiede in via Castelnuovo dove sono caduto no no guardi guardi è nel piano è nel piano dell'accordo quadro di conseguenza lo facciamo a breve lo facciamo a breve ho capito questo qui Alessandro Rapinese dice che abbiamo tema risolto partiremo direttamente dal museo della seta a scendere fino ad arrivare a quell'angolo grazie perfetto allora buonasera volevo segnalare che probabilmente in via Giussani non è segnalata bene la pista ciclabile i ciclisti non la utilizzano mi è capitato di vedere diverse volte i ciclisti sulla corsia dove la pista non è ciclabile insomma non vedere la pista ciclabile in via Giussani adesso se dobbiamo metterne lì uno col filo spinato questo fa parte della libera però non vedere la pista ciclabile c'è qualcuno che propone di portare le panchine che verranno torte dai giardini a lago nel parchetto di via Collina dove sono abbastanza distrutte mette anche una foto proposta che gireremo abbiamo una persona in linea pronto buonasera ciao battoni prego buonasera signora in diretta panchine via Collina io ho una piccola tagliolina prego purtroppo a parte tutti i comaschi maleducati però nota che non ci sono più dei cestini tipo in via dell'annunciata c'era e non c'è più in via Diaz c'era e non c'è più in via Diaz angolo bar c'era uno stop e adesso escono più buoni macchine a manetta ha assolutamente ragione signora mi dica ha ragione e devo dirle che questa settimana al nostro reparto sit dell'urbanistica mi sono fatto dare tutti i dati da parte dell'appaltatore che è dell'azienda che ha l'appalto che è Aprica e ho fatto mettere sulla grande mappa che gestisce l'urbanistica della città tutti i singoli cestini affinché si possa fare una verifica puntuale di quelli che mancano io mi sono accorto ad esempio della mancanza di un cestino in Piazza Roma l'ho segnalato a questo punto non faccio più una segnalazione puntuale per ogni singolo cestino che mi viene segnalato lo mettiamo tutto nella banca dati appunto del sit che è potentissima dove abbiamo tutta la nostra urbanistica dove si può andare a qualificare perché inserendo una tabella di Excel ti appare proprio sul territorio dopodiché si parte con un controllo generale di tutti quelli che mancano perché quello che lei segnala è una cosa della quale mi sono accorto anch'io anche perché qua in via dell'annunciata spesso lascia lì le sacchette questo non è un buon motivo guardi ci sono quello però diciamolo subito grazie la ringrazio questo è chiaro però perché siamo quasi alla fine una cosa però non è un buon motivo per lasciare i rifiuti in giro perché non c'è il cestino cioè segnali che non c'è il cestino ci sono nazioni dove la patumina volevo segnalare la nuova fermata dell'autobus a Monte Olimpino in prossimità della rotonda davanti al supermercato provoca lunghissime code non avendo l'apposita rientranza c'è una fermata a pochissimi metri prima in direzione Como la verità è che ci sono parecchie situazioni come queste e la verità è che non sono d'accordo ma c'è chi l'ha pensata così in termini urbanistici è che molto spesso i mezzi di trasporto pubblico e questa è stata una risposta che mi è stata data quando ancora ero consigliere comunale all'opposizione quando si facevano queste è che mettevano di proposito le fermate dei pullman in prossimità del attraversamenti pedonali piuttosto che veniva concepito quasi come un gestore del traffico nelle zone dove si raggiungevano alte velocità come se il pullman fosse un ostacolo mobile o fosse un modo di frenare questa era una risposta che mi era stata data all'epoca da un dirigente che si occupava di queste pianificazioni non è l'unico comune quello di Como che l'ha utilizzato però ad esempio fateci caso in via Bellinzona è così prima dell'attraversamento pedonale fanno fermare il pullman in maniera tale che sia un ulteriore elemento di garanzia per l'attraversamento del pedone è un concetto di mobilità come dicevo prima non sono un esperto un ingegnere sono diplomato a settificio e qualche esame di giurisprudenza quindi non mi permetto di commentare scelte tecniche che sono state fatte da tecnici che hanno asseverato le posizioni dopodiché qui abbiamo la garanzia anche del TPL che è l'ente che decide tutte queste cose devo dire che sì lo so ma non è questo signore evidentemente vive a Monte Olimpino ma è così più o meno a Monte Olimpino prendiamo poi un'ultima chiamata flash mi collego a Monte Olimpino si può fare lampeggiante il semaforo di via Cardina nelle ore di punta il semaforo che crea coda questo è un suggerimento che leggiamo siamo quasi in chiusura prendiamo la domanda flash perché ormai c'è una persona che sta aspettando pronto buonasera buonasera sono Angelo Dacomo ho telefonato due o tre settimane fa per la ex Landini vorrei sapere se ha visto praticamente che l'ho mandato anche il progetto e che non è segnato il marciapiede se ha controllato e se avremo il marciapiede o meno in via San Francesco grazie mille perché siamo proprio in chiusura quindi faccio rispondere ho visto decine di volte nel senso che il signore si è segnalato il signore ha parlato anche con Ciabattoni che stasera è superstar ma la verità è che siamo corcati da opere pubbliche perché lui facendo l'edilizia pubblica e privata gli arriva tutto gli arriva tutto e ora devo dire che non ho approfondito la vicenda gli ho solo chiesto a posto con la via San Francesco dice risponde ai requisiti risponde ai requisiti di conseguenza il signore adesso non vorrei andare nel dettaglio perché si tratta di un intervento di un privato urbanistica eccetera eccetera però quando mi dice risponde ai requisiti vuol dire che rispetta la norma il signore è invitato visto che può contattare Ciabattoni ogni momento a mandargli una mail e farsi dire perché rispetta i requisiti allora stiamo parlando di un nuovo insediamento mi spiace che come al solito siamo arrivati al termine non siamo riusciti a leggere tutte le domande non siamo riusciti neanche a parlare dell'avanzo di bilancio colpa come sempre del conduttore ovvio grazie a chi ci ha seguito avanzo di bilancio una roba flash non siamo riusciti a parlare li spenderò benissimo quanti soldi sono diciamolo proprio in flash allora sono 102 milioni di euro di avanzo parlare dell'avanzo è una cosa molto complicata perché c'è un avanzo libero un avanzo vincolato un avanzo accantonato ci sono una parte di riserve quello che posso dire in termini di strategia noi abbiamo liberato tutto il fondo pluriennale vincolato abbiamo liberato tutti quei progetti che non avrebbero visto la luce per n motivi tipo la piscina Sinigaglia che è bene sapere che era un progetto che era sballato e non si poteva fare di conseguenza cosa è successo dal punto di vista contabile abbiamo liberato le somme perché abbiamo aggiornato il progetto quindi sono cadute nell'avanzo 2023 ma la verità è che questo ci consente di fare un progetto adeguato costerà 270 mila euro in più ma potremo arrivare alla fine con il trampolino che dobbiamo riaprirlo perché è una piscina per tuffi con tutto il mosaico della piscina rifatto e con la sauna inclusa in questo preventivo completo più alcune parti di ammaloramento che sono accadute negli arco di questi quattro anni che aspettiamo che riparta e di conseguenza si sono voluti 270 mila euro in più a copertura ma non è una cifra che è andata in avanzo tecnicamente è una cifra stanziata che noi abbiamo deciso di liberare affinché si finanziasse il nuovo progetto quindi non si faccia ingannare dalle somme contabilmente sono 102 ma la verità è che una buona parte di questo fa parte di progetti che hanno già in itiner non siamo diventati miliardari in un colpo però adesso con questo avanzo finanzieremo di sicuro a breve la via Giulini la via Cuzzi e le due palestre che sono un problema enorme l'avevo scritto perché la via Cuzzi dopodiché il famoso marciapiede della via Castelcarnagino e siamo in chiusura e torneremo non voglio andare ma ne sto qui adesso parliamo di altro dobbiamo lasciare spazio al Tg e a nessun dorma saluti a Ciabattoni saluti a Ciabattoni grazie per essere stati con noi il sindaco torna venerdì prossimo buona serata grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti